Qual è il contributo dei biologi per il mondo dei professionisti e qual è il suo consiglio sia per i professionisti sia nella vita? Per i biologi io credo che per un atleta sia importante ciò che è anche il nostro metabolismo, conoscere il metabolismo e migliorare il nostro metabolismo, evitare ovviamente delle problematiche, questa è la cosa più importante, quindi il consiglio è quello sempre di stare a passo con i tempi, seguire quelle che sono le nuove mette che sono importanti per noi, per migliorarci, la nuova tecnologia, la nostra esperienza, portare l'esperienza e approfittare di quello che ha portato in questi anni a migliorare in tutto e io credo che la biologia faccia parte di questo mondo nostro dello sport.